sono altre persone senza mascherina ma perché gli altri non glielo dite vai a accompagnarli senza mascherina hai capito? noi lo stiamo dicendo a tu accompagnami, se la fai a accompagnarmi mettimi le mani addosso mettimi le mani addosso sto aspettando sto aspettando che mi metti le mani addosso per accompagnarmi sto proprio aspettando io non ti sto minacciando che ti sta minacciando? ma vai affanculo pelato vai a accompagnarli senza mascherina vai a accompagnare anche lui vai a accompagnare non parlare con mia moglie ma parlare con mia moglie che ti mangio vivo che mi sta minacciando? che è latone di merda che mi sta minacciando? meno di gente senza mascherina come per cazzo a me cosa sono io? chi è testa di cazzo? 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 dimmi ancora testa di cazzo dai figlio di puttana dimmi ancora testa di cazzo dimmi ancora testa di cazzo dimmi ancora testa di cazzo